Il Catania si tuffa nel 2017 ripartendo dal mercato e da quanto di buono fatto vedere nel corso dell'ultimo anno solare. Ma cosa ha lasciato il 2016 al Catania? Proviamo a scoprirlo con i numeri. I rossazzurri hanno giocato 39 partite, vincendone appena 14, perdendone 10 e pareggiandone ben 15. Proprio il segno X è stato una costante nei risultati dei rossazzurri, soprattutto fuori casa e spesso a reti bianche. Sono ben 10 gli 0-0 ottenuti dagli etnei nei 12 mesi appena conclusi. Non troppo esaltante neanche il bottino di punti sui 117 disponibili nelle 39 gare già citate. Il Catania ne ha conquistati appena 57, di cui la maggior parte da agosto in poi per una media di 1,46 punti a partita. Capitolo gol. 36 quelli messi a segno, 32 quelli subiti. Numeri non da big, soprattutto in fase realizzativa. I rossazzurri poche volte sono riusciti ad andare sopra le due reti nel 2016. Appena 4 i casi, tutti nella stagione attuale. Alla prima giornata contro la Juve Stabia, all'ottava nel derby col Messina, alla tredicesima contro il Catanzaro, sempre in casa e tutte e tre le volte per 3-1. Il quarto caso riguarda la gara col Monopoli della diciassettesima. Ancora al massimino è finita sul 4-1 per Mazzarani e compagni. Dati che sottolineano ancora una volta la difficoltà della squadra di Pancaro e Moriero prima e di Rigoli poi di farsi valere anche in trasferta. Elemento che però fa la differenza tra una presunta big del campionato ed una comprimaria. Il confuto finale delle reti fuori casa da questo punto di vista è eloquente. Su 18 partite disputate lontano dal Cibali nel 2016, il Catania ha assegnato appena sette volte. Sarà senz'altro questo uno dei dati dal quale ricominciare a lavorare in vista della seconda parte di stagione e per conquistare un posto nei play-off da protagonista.